Luminari, veri e propri geni della matematica, della fisica, della biologia, della linguistica, della neurologia. Anche quest'anno il Symposium di San Marino vede la presenza di scienziati e studiosi di livello mondiale. Innovativo e stimolante l'approccio multidisciplinare, caratteristico di questi convegni sanmarinesi. Quest'anno abbiamo una Fields Medal della matematica, abbiamo forse il più importante paleontologo vivente. In questo ambito di interdisciplinarità e libera espressione, in questo piccolo simposio trattiamo degli argomenti che raramente vengono trattati nei simposio disciplinari e ordinari. Alle radici delle motivazioni nella scienza e nello sviluppo della conoscenza. Questo è il tema scelto e non a caso perché nella storia della ricerca sono innumerevoli gli esempi nei quali si è partiti in una direzione per poi trovare qualcosa di fondamentale altrove. I fenomeni elettrici erano stati considerati per lungo tempo un divertimento dei salotti del Settecento oppure, un altro esempio, i materiali, alcuni materiali di uso comunissimo come il velcro sono stati un prodotto della ricerca, dell'esplorazione spaziale che chiaramente non era indirizzata a quella direzione. L'evento è organizzato dall'Associazione Scientifica Euresis di Milano con il patrocinio della Segreteria agli esteri e con il sostegno dell'Università, della Fondazione CEUR e del Meeting per l'amicizia. L'evento è organizzato dall'Associazione Scientifica Euresis di Milano.